Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana! Nel video di oggi parliamo dei modi di dire della lingua italiana con la parola gioco o con il verbo giocare. Ho già parlato di alcuni modi di dire con questa parola e vi lascio il video qui se volete andarlo a vedere. Era un video in cui avevo molti meno capelli rispetto ad adesso. In descrizione trovate la trascrizione di questo video e trovate anche la spiegazione di alcune parole chiave e sicuramente può esservi utile per comprendere al meglio il video. Inoltre se vi servono potete attivare i sottotitoli. Come sempre se state imparando la lingua italiana o siete interessati alla cultura italiana siete nel posto giusto, bravi e brave! Io sono Simone e qui su Italiano in sette minuti vi aiuto a migliorare parlandovi di diversi argomenti tra cui cultura, modi di dire, grammatica, libri e tanto altro in lingua italiana. Per non perdere i prossimi video vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Se siete pronti iniziamo! Nello scorso video abbiamo parlato di alcuni modi di dire come ad esempio giocando si impara, è un gioco da ragazzi, giocare col fuoco e quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Oggi invece vedremo il gioco non vale la candela, prendersi gioco di qualcuno, mettersi in gioco, fare il doppio gioco, giocare sporco e giocare d'anticipo. Come sempre vi ricordo che quando incontrate delle nuove espressioni o dei nuovi modi di dire è importante anche pensare a quali sono le espressioni nella vostra lingua madre, quali sono le similarità della vostra lingua con la lingua italiana in modo da creare più connessioni. A volte quell'espressione esiste e a volte quell'espressione non esiste. Ricordatevi come sempre di scrivermi nei commenti quali di queste espressioni esistono già nella vostra lingua e quali invece sono completamente nuove. Iniziamo! Il gioco non vale la candela è un'espressione che si usa per dire che lo sforzo che facciamo in qualcosa non è ripagato dal risultato, ovvero la candela è il nostro sforzo e il gioco è il risultato, è quello che otteniamo. In passato per poter giocare per poter giocare a carte o qualsiasi altro gioco bisognava usare le candele perché non c'era la luce generata dall'energia elettrica e quindi bisognava sprecare o consumare una candela per poter giocare. Allora se la posta in palio era troppo bassa, quindi se la ricompensa del gioco era troppo bassa ovvero si giocava per pochi spicci, per pochi soldi, allora il gioco non valeva la candela e quindi sprecare quella candela non era una buona idea, non era un'idea intelligente, si preferiva non sprecare la candela e quindi non giocare. Vediamo alcuni esempi L'altro giorno sono andato al cinema, ho speso 100 euro per vedere il film ma mi rendo conto che il gioco non è valso la candela. Luigi ha pensato molto a quell'offerta di lavoro ma ha capito che il gioco non vale la candela. Prendersi gioco di qualcuno è un'espressione che in lingua italiana usiamo per dire che qualcuno sta imbrogliando oppure sta scherzando con qualcuno, solitamente scherzare in modo negativo, quindi sta facendo quasi un torto a quella persona. Io mi prendo gioco di Antonio e Antonio può arrabbiarsi con me proprio perché io mi prendo gioco di lui, non dovrei prendermi gioco dei miei amici. Quindi prendersi gioco significa raccontare qualcosa che non è vero oppure dire qualcosa che non è vero. Io mi prendo gioco di qualcuno. Vediamo alcuni esempi Le ballerine si prendono gioco di Maria perché è il suo primo giorno Ieri ho capito che il panettiere si prendeva gioco di me quando mi ha detto che il pane costava 20 euro al chilo In questo caso il panettiere stava scherzando con me dicendomi che il pane costava 20 euro al chilo si è preso gioco di me ma non lo ha fatto con cattiveria, non lo ha fatto per umiliarmi o per deridermi lo ha fatto soltanto perché aveva voglia di scherzare Mettersi in gioco è un'espressione che anch'essa si forma con la forma riflessiva del verbo mettere proprio come abbiamo visto prima l'espressione prendersi gioco di qualcuno e in questo caso mettersi in gioco significa provare in prima persona a fare qualcosa quindi quando mi metto in gioco significa che attivamente cerco di fare qualcosa C'è chi commenta il gioco quindi c'è chi fa lo spettatore per esempio di una partita o di un avvenimento e invece c'è chi ha voglia di giocare quella partita chi ha voglia di mettersi in gioco, di essere un protagonista di quella partita è un'espressione che non usiamo soltanto per parlare di eventi sportivi o di partite ma usiamo questa espressione anche per parlare di altri argomenti vediamo alcuni esempi Stefania si è candidata per un incarico di maggiore responsabilità si è messa in gioco consapevole che la sua proposta potrebbe essere rifiutata gli studenti della lingua italiana si mettono in gioco ogni volta che provano a usare quello che hanno imparato prima di andare avanti ti ricordo che ogni settimana invio una newsletter completamente gratuita dove spiego alcune parole o alcune frasi in lingua italiana e condivido un testo e una versione audio che ti aiuterà a migliorare in lingua italiana se sei interessato o interessata trovi in descrizione il link per poterti iscrivere è gratis e lo sarà per sempre riprendiamo fare il doppio gioco è un'espressione per dire che qualcuno si comporta in maniera ambigua oppure ingannevole significa che sta cercando di ingannare qualcuno una persona che fa il doppio gioco è una persona che contemporaneamente porta avanti una versione dei fatti con una persona ma anche un'altra versione dei fatti con un'altra persona e quindi non si capisce se questa persona sta realmente da una parte oppure dall'altra quindi facciamo il caso di un contrasto o di una discussione una persona che fa il doppio gioco è una persona che non si schiera né da una parte né dall'altra e quindi non si schiera da nessuna delle due parti e fa il doppio gioco un dipendente ha fatto per mesi il doppio gioco fornendo informazioni importanti della sua azienda a un'azienda concorrente Mirko ha fatto per anni il doppio gioco con sua moglie ma alla fine è stato scoperto adesso è single giocare sporco giocare sporco significa partecipare a un gioco o a una competizione o a un evento e imbrogliare usare un trucco o usare uno stratagemma per far sì che il risultato finale sia migliore una persona che gioca sporco è una persona scorretta quindi una persona che infrange le regole una persona che non rispetta le regole vediamo alcuni esempi spesso agli esami alcuni studenti decidono di giocare sporco per esempio usando il loro cellulare l'altro giorno alla maratona per un breve tratto ho preferito giocare sporco e ho usato la bici l'ultima espressione è giocare d'anticipo giocare d'anticipo significa prepararsi a un evento prepararsi a qualcosa spesso giocare d'anticipo è una buona idea significa che ci prepariamo a qualcosa per non essere presi alla sprovvista per non essere impreparati quindi io gioco d'anticipo per prepararmi a qualcosa vediamo alcuni esempi nel 2018 Massimo stava per essere licenziato lui aveva giocato d'anticipo e infatti aveva già un altro lavoro gli studenti che giocano d'anticipo sanno già come studieranno nelle prossime settimane in modo da non dover decidere tutto all'ultimo minuto bene amici siamo arrivati alla fine del video che spero vi sia piaciuto e spero che queste espressioni siano state utili forse conoscevate già alcune espressioni mentre altre no fatemi sapere nei commenti quali di queste espressioni esistono già nella vostra lingua e quali invece non esistono io vi ringrazio per aver visto il video e vi ringrazio per aver passato un po' di tempo in mia compagnia e inoltre grazie a tutti gli studenti della lingua italiana che scelgono di sostenermi economicamente su Patreon, Kofi e TP grazie infinite perché con il vostro supporto riesco a migliorare la qualità dei video, della newsletter e del podcast grazie, io vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un abbraccio, ciao!